Mi pare che Renzi, i dati che abbiamo, è sopra il 70%, sopra il dato nazionale, ma credo che in questo momento il PD calabrese può essere soddisfatto perché l'andamento mi sembra essere un andamento tranquillo, c'è un dibattito all'interno del nostro partito serrato ma democratico, sereno ed è di buon auspicio per dopo il 30 aprile, perché credo che il PD riuscirà a trovare quella sintesi che potrà essere la proposta per le prossime elezioni politiche, in fondo l'obiettivo è ritornare al governo di questo Paese. La scissione ha indebolito il partito? Credo che la scissione sia un momento di chiarificazione, è un momento dolorosissimo, ma è anche un momento di chiarificazione, l'indebolimento, se c'è stato o meno un indebolimento lo vediamo alla prova delle prossime elezioni, io credo che c'è tanta gente pronta a votare un partito unito, questo è il punto vero, unito sui contenuti, unito sull'azione di governo, unito sull'azione politica, ecco se la scissione significa che c'era un partito unito penso che i danni potremo recuperare. Salvatore Bruno per la Cineus 24